Le istituzioni calabresi non sottovalutano l'emergenza coronavirus. E' questo il messaggio emerso dalla riunione svoltasi presso la Prefettura di Catanzaro e alla quale hanno partecipato prefetti e vertici delle forze dell'ordine di tutte e cinque le province calabresi, autorità militari e dirigenti dei Dipartimenti Regionali Salute e Protezione Civile. Preso atto delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni, e cioè nessuna chiusura di scuole e università, come aveva proposto la neopresidente Santelli, è stato ribadito che le norme di profilassi, ovvero le segnalazioni alle autorità sanitarie e la quarantena volontaria, sono obbligatorie solo per coloro che provengono o sono passati dalle cosiddette zone rosse, ovvero la zona dell'Odigiano e la parte della provincia di Padova, in cui si sono sviluppati i focolai, mentre si sta valutando la possibilità di installare strutture mobili nelle vicinanze degli ospedali, cioè delle tende da destinare a triage protetti, così come si è già fatto dove si sono registrati casi di contagio allo scopo di evitare che persone che hanno contratto il virus entrino in pronto soccorso. La novità sostanziale delle ultime ore, come comunica il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, è l'istituzione da parte della regione di un secondo numero verde che si aggiunge al 15.00, già attivato dal Ministero della Salute. Il nuovo numero è l'800 76 76 76, chiamando il quale si entra in contatto con operatori sanitari di provata esperienza e dunque in grado di dare notizie certe. Il prefetto invita tutti a governare la paura, sentimento comprensibile, purché non si trasformi in qualcosa di irrazionale. Ed evitare questo salto di qualità, dice la Ferrandino, è uno dei principali compiti delle istituzioni, in un momento come questo. La regione ha istituito un numero verde che è 800 7676, in aggiunta all'1500, che i cittadini potranno comporre per avere notizie. Qual è l'elemento di novità davvero importante? Che a questo numero rispondano operatori sanitari, quindi persone già esperte che sono in grado di dare risposte e notizie certe ai cittadini. La regione stessa nel corso della riunione di oggi ha confermato che aumenterà anche il numero di operatori sanitari che sono deputati a questa risposta. Un'altra situazione importante che è stata affrontata è la necessità ineludibile di far circolare le giuste e corrette informazioni tra i cittadini, perché troppe sono le fake news che vanno poi ad incidere sul panico delle persone. Ricordiamoci che la paura è un sentimento umano, che va compreso, non va deriso, ma va anche governato. Il compito delle istituzioni, in questo caso, garantire una giusta e corretta linearità e circolarità delle informazioni, in modo da rendere un servizio quanto più sereno al territorio. Per quel che riguarda l'aspetto strettamente sanitario, il dirigente del Dipartimento Salute della Regione, Antonio Belcastro, spiega che sarà sempre maggiore il coinvolgimento delle aziende sanitarie territoriali e della medicina di base, primo fronte nella battaglia di contrasto del Covid-19. Abbiamo fatto il punto su come ci eravamo comportati finora, su come le strutture sanitarie avevano risposto in maniera egregia finora e su come è cambiato lo scenario da quando, da venerdì, da sabato, insomma, si sono accesi questi focolai anche in alcune regioni del nord Italia. e questo ci ha imposto di indirizzare la nostra attenzione, il nostro obiettivo adesso è centrato sulle aziende sanitarie provinciali, quindi sui dipartimenti di prevenzione e sui medici di medicina generale, i quali, convocati già oggi e ci rivedremo domani, hanno dato la massima disponibilità e collaborazione.